Mi permette di fare una prova? Lieta di conoscerla, signor Motosua. Mi chiamo Yuzuki. No, io sono uno dei Pescom realizzati dal signor Minoru. Signor Minoru? Vuole saperne di più di lei, non è vero? Piacere di conoscerti! Una parte dei dati è andata persa. Sulle faccende domestiche e altri dati simili. Nessuno? Non si preoccupi, lei sta benissimo. Non ne ha risentito. Non credo. È impossibile sapere se nel suo Pescom sia stato installato un sistema operativo o meno. sembra che ci sia una protezione. Grazie per averlo chiesto. Il signor Minoru ha sistemato tutto. Vengono salvati regolarmente. Così, se qualcosa non va, verranno reinstallati. La quantità andata persa poi è minima. Per avere la vita di saperlozino. La quantità andata che non va, è un'ombra. La quantità è da lungo. Un'ombra... ... ... ...